Allora, per questa padella, la fegola, iniziamo col brodo, i carciofi in padella, mettiamo la zucca, allora a metà cottura la crema di zucca, mamma mia, giù i carciofi in padella, poco spento un giro d'olio e parmigiano. Mamma mia, allora impiattiamo, finiamo con dei carciofini leggermente fritti. Fregola, crema di zucca, carciofi e carciofi fritti. Mamma mia. Grazie. 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 Grazie.